Ciao, belli de zio, sono Andrew e anche se oggi non è venerdì sono qui pronto per vedere insieme a voi dei video davvero da brividi. Come ho fatto ormai due volte in passato, oggi ci guarderemo dei video molto spaventosi che voi mi mandate su TikTok. Per questo motivo ovviamente ricordate, primo di seguirmi su TikTok, secondo di inviarmi dei video spaventosi che trovate magari mentre scorrete sull'app, o me li mandate o mi taggate, comunque io prima o poi farò un video in cui guarderò questi video qui. Come sto facendo oggi. Mi era piaciuto un sacco fare questi video in passato, erano piaciuti anche a voi indicativamente, per cui sono qui. Spero che continueranno a piacervi. E un'altra cosa che dovevo dirvi prima di cominciare è che nei prossimi mesi proverò a fare più video, non solo video come questo che sono più facili, in cui ci guardiamo dei TikTok, ma anche proprio video come faccio di solito, quindi in cui vi racconto una storia da brividi. Quindi sì, nei prossimi mesi cercherò ogni tanto di mettere due video a settimana così, io sono più contento, voi siete più contenti, ci vediamo di più, stiamo più tempo insieme e nulla. Per cui non c'è molto altro da dire in realtà ragazzi, siamo qui, ci guardiamo questi video inquietanti. L'unica cosa che devo ricordarvi e che non vi ricordo da un pochino di tempo è che su Pampling trovate le magliette che indosso nei video. Ricordate, vi lascio il link in descrizione, che mettendo il codice ANDREW riceverete anche delle calze a vostra scelta, totalmente gratis. Ok, detto tutto questo, fatta questa gigantesca premessa iniziale, direi che è il momento di cominciare a guardare questi bellissimi video che mi avete mandato. Cominciamo immediatamente con questo video che io me lo sono già spoilerato, però ragazzi è uno dei motivi per cui io odio i bambini. No scherzo, dai, scherzo. Ecco, già per questo, anche se non è niente di paranormale, io avrei paura perché che cazzo ci fa un bambino lì che batte al muro? Non lo so, mi farebbe paura. No. Ecco, ho poche parole per commentare questo video, già io credo che i bambini di base siano delle bestie di satana, questo video ne è la prova. A parte gli scherzi probabilmente credo sia un fake, perché cioè sarebbe troppo, una manifestazione troppo potente per essere una cosa paranormale, quindi credo che sia falso. Anche se la transition che ha fatto sembra molto lineare, molto fluida. Non lo so, proviamo a riguardare velocemente almeno la transition. Ok, qui c'è il bambino, lo possiamo vedere bene. Qua non c'è niente, il rumore si affievoluisce come se lui avesse usato proprio quel tool che c'è nei programmi di editing video che ti fa abbassare il suono gradualmente. In qualsiasi modo abbia fatto per ricreare questo effetto è stato molto bravo. Continuiamo. Questa donna scrive che ha cambiato la posizione della videocamera perché quella cosa continuava a guardarla. Vediamo cos'è quella cosa. Beh, sì. L'ha visto? Cioè, lei vede sta figura, lascia uno dei due figli in camera da solo e va verso quella figura col neonato in braccio. Sei un genio del male. Allora, la reazione del bambino sembra genuina. Allora, io ovviamente non credo che si tratti di una vera attività paranormale perché quelle apparizioni sulla porta, credo le abbiate viste, sono molto dirette, sembrano fatte apposta per il modo in cui si muove quella cosa lì che sembra più che altro una forma fatta col cartone, non lo so. Non so che cosa possa essere ma comunque in ogni caso credo che qui stia succedendo una cosa ancora peggiore del paranormale perché questa donna con due bambini piccoli, uno piccolissimo, sta mettendo in scena probabilmente con l'aiuto del marito o del compagno, chiunque sia o di un amico, sta mettendo in scena una situazione credo traumatizzante per questi bambini, anzi senza credo. Non so se i bambini sono a conoscenza del fatto che sia tutto falso, di sicuro quello più piccolo non lo può sapere, non lo può capire, però assistendo a questi episodi che anche se inscenati sono episodi di panico, di paura, di sicuro non li fa bene. Non credo che il comportamento di questa madre sia dei migliori, nel senso che hai voi fare visualizzazioni facendo questi video, non mettere in mezzo dei bambini, perché possono rimanere traumatizzati sul serio e ve lo dice uno che è rimasto traumatizzato, non per colpa dei miei genitori, per fortuna, ma per colpa di YouTube. Chi l'avrebbe mai detto? Io su YouTube sono rimasto traumatizzato perché ho visto tanti video strani quando ero piccolo e poi sono finito a lavorarci su YouTube. Ironia della sorte, la vita è proprio ironica. Comunque a parte questa piccola digressione, vi ripeto, credo che non sia una situazione molto sana per questi bambini e spero che questa donna la smetta perché ha un intero profilo con un milione e novecentomila follower in cui fa video così, ne avevo già visti. E secondo me non si fa, non mettere in mezzo i tuoi figli insomma. Ma comunque andiamo avanti se non mi incazzo. Raga ma che cosa è quella cosa lì? Perché c'è un crocifisso che è nel nulla? Il signore ha chiamato a sé tutti i fedeli. Nel nulla, oddio è sparito, ok è ricomparso. Nel nulla, ma che cazzo è un crocifisso che vola? Ha avvistato il rosario volante a Bari. Ma che cazzo? Ma che cazzo raga? Sembra uno di quei video che fa vedere i glitch nella vita reale. Praticamente se ho capito bene, ok sono i palloncini del funerale del nostro Sami, un bambino che a quanto pare è morto e hanno fatto dei palloncini a forma di rosario, li hanno fatti volare per aria, ok? Quindi più che una cosa horror questa, è una cosa abbastanza triste. Non so perché abbiano fatto questa cosa con i palloncini, però tutto sommato è un video interessante. Questa ragazza dice posso mostrarvi un video spaventoso? Certo. Io lo so che c'è un jumpscare di merda, E se c'è un jumpscare di merda, segnalo chiunque me l'abbia inviato sto video, eh. Ehi. Non riesco a vedere niente, cos'è, cos'è, cos'è successo? Ragazzi non so perché io non riesco a vedere niente in questo video, voi vedete qualcosa? Nel senso non mi sembra che ci sia niente di particolare, niente di strano. Se voi avete visto cos'era, o magari lo vedrò io in fase di editing, comunque fatemelo sapere. Abduzione extraterrestre. Abduzione extraterrestre, credo significhi rapimento. Ok, prima si spegne una luce. Lui è confusissimo, guarda ovunque. Non so cosa pensare, non riesco a credere che sia successo davvero. Credo che sia una sorta di trovata pubblicitaria, ma facciamo finta che non lo sia. In questo caso, davvero dei presunti alieni ci rapirebbero in questo modo, cioè, significherebbe che hanno una tecnologia talmente tanto avanzata da teletrasportarci alla velocità della luce da qualche parte sulle loro navicelle o cose. Anche pretendendo che si tratti di un video genuino, non riesco a togliermi di dosso la sensazione che ci sia un'azienda dietro, c'è qualcosa per pubblicizzare qualcosa, non lo so. Cioè, in questo video più degli altri vi chiedo di dirmi che cosa ne pensate perché io non riesco a darmi una spiegazione, nel senso... L'unica spiegazione che mi do è che sia un video falso, ovviamente. Falsissimo, fatto ad hoc, fatto per qualche campagna pubblicitaria, per sponsorizzare qualcosa, non lo so. Quindi fatemelo sapere voi perché io in questo momento non ho molta fantasia. C'è scritto creepy paranormal possession. Inquietante possessione paranormale? La madre ha detto, è tempo di giocare. Mamma? È tempo di giocare. Mamma? È tempo di giocare. Che cavolo era quello che le ha chiesto? Ti ho detto, è molto aggressiva. È qui dentro? Era l'uomo col cappello, quello? Chiaramente sì. Dato che queste persone non sono attori professionisti, si vede che stanno un po' recitando. Però comunque il video è abbastanza inquietante in sé. Non dico che è per forza sicuro che sia stato recitato. Dubito fortemente che non sia recitato, però... Vabbè. Facendo finta che non lo sia, fa molta paura. In più si vede anche l'uomo col cappello, alla fine. Se è un uomo col cappello, a me sembrava un tizio, tra l'altro, mascherato di bianco in faccia con un cappello. Ma l'uomo col cappello, in realtà, di cui devo ancora farvi il video, ragazzi. Aspettatemi, vi giuro che ve lo faccio. Non ho avuto modo di farlo ancora, però giuro che ve lo faccio. Comunque, a parte questo, secondo le testimonianze, quest'uomo col cappello non gli si può vedere la faccia. Cioè, è letteralmente soltanto un'ombra nera, totalmente nera, senza caratteristiche del volto. Mi stanno venendo i brividi a parlarne. Mi fa molto paura questo argomento, quindi... Mi cago addosso quando parlo dell'uomo col cappello. Quindi, anche per questo, forse, sto ritardando con i tempi. Ma, a parte tutto ciò, dicevo, trovo sia difficile sia vero anche per questo fattore qui, per l'uomo col cappello, alla fine. Che non è come tutti quelli che dicono di averlo visto lo descrivono. Ok, fatemi sapere se voi, invece, credete che sia tutto vero. Se avete avuto esperienza di qualche persona che, magari, si diceva fosse impossessata da qualche spirito maligno, fatemi sapere se quello che avete visto voi rispecchia quello che vediamo nel video. Detto questo, continuiamo. Un uomo gioca con suo figlio in camera. E chiaramente noi dobbiamo guardare lo specchio. Si tratta chiaramente di qualcosa messo lì col green screen. Saprei farlo anche io su Final Cut. È un uomo normalissimo che indossa un cappello che passa. Loro l'hanno messo ad un'opacità molto bassa, così da farlo sembrare una sorta di fantasma. Ma, in realtà, ragazzi, è chiaramente editato questo video. Cioè, si vede troppo. Non posso neanche far finta che sia vero. Stavolta, regà. Questo video l'ho fatto vedere nel penultimo video di Solo Horror, quindi lo conosco molto bene, ma magari qualcuno di voi non l'ha visto, per cui, guardiamolo subito, è strafego. Non è importante sapere che cosa dicono. La cosa che dovete sapere è che si trovano in un penitenziario abbandonato. Allora, la sua reazione è chiaramente vera. Cioè, è vera. Si sente proprio il terrore nella sua voce quando dice, oh fuck, fucking shit. Cioè, si sente. Però non so, in realtà, se avete visto quello che lui ha visto. Facciamo un replay. Cioè, ragazzi, in una delle celle c'era una sagoma come se ci fosse qualcuno. Sembra la sagoma di un uomo ombra. Quindi mi fa molto cagare addosso questo video. L'Hatman, l'uomo col cappello, è un uomo ombra, per chi se lo stesse chiedendo. E perché il mio gatto inizia a miagolare mentre dico queste cose, non lo so. Questo video è molto interessante. Non me lo riesco a spiegare, anche perché queste celle dovrebbero essere chiuse. Non dovrebbero poter essere accessibili. Per cui, in qualsiasi caso, comunque, anche se si fosse trattato di una persona che era lì per qualche motivo, di sicuro malato, perché per quale altro motivo puoi trovarti in un posto del genere, è ugualmente un incontro molto, molto inquietante. Cioè, sia che fosse una presenza paranormale, che fosse una persona vera, fa davvero paura. Perché, ovviamente, in questi posti, quando incontri delle persone, non sai che intenzioni hanno, se sono buone o cattive persone. Quindi, fa comunque sempre paura. Contenuti sensibili. Alcune persone potrebbero provare disagio guardando questo video. Guarda comunque! Warning, warning, warning. Questo video potrebbe essere disturbante per alcuni... viewers. Bitch! Touch me, Sukha! I'm here! Ah, c'era un'altra cazzo di foto dell'uomo col cappello, ragazzi. Smettetela di mandarmi questi video con l'uomo col cappello, perché mi fanno cagare in mano dalla paura. Vaffanculo. Ok, questi video sono chiaramente spezzoni di film o cose comunque finte, niente di vero, però... Fanno paura, perché sono tutte immagini inquietanti, con la musichetta inquietante. A me sono venuti brividi. È andata così. Sembra l'altra madre. Ma lui è tranquillissimo proprio, cioè... Lui è tranquillo. Lui è tranquillo, vabbè. Molto bello questo video. Molto simpatico. Cioè, ci sono degli agenti di polizia? Cioè, ci sono degli agenti di polizia? Ecco, questo video, ragazzi, come lo spiegate? Voi scettici, come me. Come lo spiegate? Io non me lo so spiegare, probabilmente perché non ho le conoscenze adatte per spiegarlo. Sicuramente ci sarà qualche ragione per cui questi attrezzi si muovono così. Però non riesco a capire quale possa essere questa ragione. Magari qualcosa sottoterra, non lo so. Fatemi sapere cosa ne pensate. E invece voi persone che credete nel paranormale, invece, ditemi secondo voi, anche perché è curioso alla stessa maniera, secondo voi ditemi che cosa può essere, cioè quale tipo di entità può fare questi scherzi, queste cose. Io, per oggi, vi ho mostrato tutti i video che c'erano da mostrarvi. Spero che vi siano piaciuti. Spero che qualcuno vi abbia fatto venire brividi come a me per quel cazzo di uomo col cappello. Io, quindi, vi ringrazio veramente per la visione. Spero di avervi fatto compagnia. Voi mi fate sempre compagnia. Sono contentissimo che il canale, comunque, stia ancora crescendo nonostante tutto, nonostante le brutte cose che sono accadute negli scorsi mesi. E detto tutto questo, ragazzi, grazie ancora. Io vi do appuntamento questo venerdì con un nuovo file. Ciao! Ciao! Grazie per la visione!